Il dottore Curcio è appena terminata, la riunione è in prefettura, può anticiparci cosa è stato deciso per il trasferimento? Allora posso dire che abbiamo discusso ovviamente della questione dei rifiuti tunisini, tunisini o meglio che sono andati in Tunisia e sono tornati. Faremo un comunicato stampa noi e la prefettura in cui spiegheremo e rassicureremo le persone, le popolazioni interessate, ma in questo momento non penso di poter anticipare nient'altro. In giornata sarà fatto un comunicato stampa. Come ha dichiarato al termine dell'incontro, nell'immediatezza della chiusura del tavolo in prefettura il procuratore capo di potenza Francesco Curcio, l'obiettivo principale è tranquillizzare le popolazioni. I rifiuti ritornati dalla Tunisia sono innocui, come dimostrato anche da una prima analisi compiuta la settimana scorsa proprio su indicazione della procura di potenza e quindi ora si può procedere con il trasferimento verso l'area di Persano individuata insieme alla regione Campania. E quanto è stato ribadito questa mattina la riunione che si è tenuta in prefettura a Salerno e che ha messo nero su bianco alcuni aspetti relativi al trasferimento delle 6.390 tonnellate. Il trasporto dei 213 container inizierà presumibilmente già nella giornata di domani o al massimo giovedì dal porto di Salerno verso l'area che dovrà ospitare i 213 container che la Tunisia ha rispedito all'Italia dopo l'inchiesta sul traffico internazionale di rifiuti che in provincia di Salerno ha investito l'azienda SRA di Polla ma che in Tunisia ha portato all'arresto del Ministro dell'Ambiente. Al tavolo con il prefetto di Salerno Francesco Russo questa mattina ai vertici delle forze dell'ordine il procuratore di potenza Francesco Curcio il pubblico ministero titolare dell'inchiesta Vincenzo Montemurro ma anche l'assessore all'ambiente vicepresidente della regione Campania Furvio Bonavitacola, il RUP Liliana Monaco ed il presidente dell'ente d'ambito Giovanni Coscia la società che deve gestire i rifiuti ma che diversamente da quanto previsto in un primo momento non si occuperà della caratterizzazione che sarà invece affidata ai consulenti della procura di potenza Regione e Deida avranno invece il compito di mettere a disposizione le attrezzature necessarie per tutta la parte operativa una volta giunti a Persano i rifiuti saranno sotto il controllo e dunque a disposizione dell'inchiesta giudiziaria che vede al momento nel registro degli indagati l'iscrizione di sette persone resta da capire le reazioni che la decisione susciterà nei sindaci della Piana del Sele che, pare per un equivoco o un'incomprensione, questa mattina non sono stati invitati all'incontro